8, 9 e 10 giugno torna la festa a Villa Mosca, un momento molto atteso dall'intero quartiere ma non solo. Sì, è un momento atteso, siamo riusciti a rimettere in piedi un comitato di quartiere che da tanti anni con momenti alterni ha operato a Villa Mosca. Ci saranno tre giornate in cui questa festa avrà una valenza un po' etnica, la locandina che vedranno è caratterizzata da momenti etici, ci saranno dei momenti enogastronomici particolari, speriamo di incentivare alcuni aspetti perché Teramo comunque ha una sua vocazione enogastronomica per cui sarebbe bello in prospettiva ragionare in questa direzione. Ci sarà anche un momento giovanile, c'è una cover di Vasco della domenica e in queste tre giornate avremo il piacere anche di invitare i cittadini alla raccolta delle firme che stiamo facendo per il forum sul teatro romano. Credo che sia un momento importante perché la democrazia possa essere un po' più partecipata e quindi questa è un'occasione e vi invitiamo a partecipare non soltanto al momento ludico ma anche a questo aspetto diciamo sociale. E questa sarà anche l'occasione per puntare l'attenzione su un quartiere che è stato forse poco valorizzato. Villa Mosca lo ha dichiarato il quartiere come dire la cenerentola di Teramo perché è carente di infrastrutture, di opere di urbanizzazione secondaria, non abbiamo una piazza che da tanto tempo la chiediamo, quest'anno abbiamo pensato a un'idea di una piazza smart da sviluppare a Villa Mosca sperando e l'abbiamo proposta a tutti i sindaci che in qualche modo sono venuti in campagna elettorale e abbiamo anche parlato un pochino della problematica dell'ospedale, una problematica abbastanza complessa per la quale sarebbe opportuno vedere qualche studio un po' più attento sugli aspetti urbanistici per la città. Pesi particolari che per anni sono gravati sul quartiere di Villa Mosca dovrebbero essere opportunamente valutati in un processo di ammodernizzazione del polo sanitario. Pertanto chiediamo anche che ci sia un'attenzione anche da parte dei cittadini a che i processi di pianificazione siano un po' più attenti, i processi di pianificazione per uno sviluppo più adeguato dei quartieri in generale. un'attenzione ma